Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Stabilità e maltempo si danno il cambio sulla nostra penisola con una serie di perturbazioni intervallate da piccole rimonte dell'anticiclone. Il secondo in particolare sarà protagonista di dopodomani, giovedì 18 gennaio. Al mattino buona parte dell'Italia inizierà la giornata con il sole, salvo locali nubi sparse ma in nocue specie su settori settentrionali. Nuvolosità in aumento invece al pomeriggio, soprattutto sul Tirreno, con possibili piovigini tra Alta, Toscana, Basso, Lazio e Campania. Cieli sereni e poco nuvolosi altrove, anche in serata, con tempo stabile, salvo le piovigini attese sempre sul versante tirrenico centro-meridionale. Inottata la situazione rimarrà pressoché immutata, con ampie schiarite e certo nubi anche basse sul Tirreno, associate ad isolate piogge. Attenzione anche a qualche fiocco di neve sulle alpi di confine. Concludendo con le temperature, queste sono attese in diminuzioni. Sia per quello che riguarda i valori minimi che per le massime. Per avere le previsioni sempre aggiornate per le vostre località, scarica la nostra app